Se pensi a qualcosa di buono, fallo con Stile, Stil Dolce, la pasticceria e non solo, i gelati artigianali, i rustici caldi, aperitivi, cornetti ai vari gusti e se ti va, vieni a rilassarti nella saletta relax. Bar Pasticceria Gelateria Stil Dolce, anche per servizi matrimoniali, battesimi, compleanni e qualsiasi altra ricorrenza. Su ordinazione, Rosticceria Mignon. E non perderti le specialità al bergamotto. Bar Pasticceria Gelateria Stil Dolce, di Mimmo Stilo, Via Nazionale 104, Melito Porto Salvo, info 0965 78 18 11. Se pensi a qualcosa di buono, fallo con Stile, Stil Dolce.